Se tu vivi ogni giorno come il giorno più importante della tua vita e vivi ogni occasione come questa, che è l'occasione che ti può cambiare la vita, qualcosa ti succede. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando, ascoltando su YouTube e se ci state guardando, ascoltando su Spotify, grandi, continuate a farlo anche lì, attivate campanelle e tutto quanto perché ci sono chiacchierate che non si possono assolutamente perdere. Io vi assicuro, ci faccio la firma, che questa sarà una di quelle, anche perché, insomma, sto riscontrando nel corso dei mesi, da quando è nato il Basement, che è grazie a voi, insomma, che ci seguite, che stanno succedendo delle cose molto belle e ascoltandomi, leggendo i commenti o anche quello che mi dite quando ci becchiamo in giro, è quello di poter sentire anche altre storie di ispirazione o racconti che hanno a che fare non solo col mondo dell'imprenditoria, ma con la vita in generale e allora oggi sono molto contento perché ci tenevo molto a questo ospite e come spesso accade con personalità che hanno parecchie cose da fare, bisogna trovare il momento giusto, incastrarlo e poi carpe diem cercare di coglierlo e allora io sono davvero contento perché oggi dal Basement è passato Nerio Alessandri! Buongiorno, buongiorno, buongiorno Nerio, grazie davvero per essere qui, grazie a voi per l'invito. No, allora, anche perché ero serio e tante volte il tuo nome non solo salta dal pubblico che conosce la tua storia, che ha a che fare con quello che hai fatto tu in tutti questi anni, ma anche da diversi amici in comune che hanno avuto a che fare con te o con la tua storia, ho anche collaborato con te. Questo è molto bello perché davvero c'è tanta gente che ha voglia di sentire, in un mondo in cui oggi ultimamente c'è tanta gente sui social che cerca di vendere qualcosa che non c'è, ci sono tanti guru che non sono dei guru, che ti raccontano, fanno finta. Io ci tengo tanto a provare a raccontare delle storie di grande valore come la tua e quindi so che sei ovviamente sempre pieno di impegni, ma grazie per essere grazie, è un piacere. Presidente e fondatore di Tecnogym e questo va detto non tanto perché ovviamente Tecnogym è molto conosciuto, ma proprio perché è diventata una delle realtà, se non la realtà di fitness, di wellness più importante non d'Italia, ma del mondo. Questa è una cosa incredibile, intanto mi ha colpito molto perché nonostante questo, nonostante tutte le cose che fai, da quando sei entrato al basement mi hai fatto tu un casino di domande. Questo denota la tua grande curiosità, cioè il fatto che comunque una persona anche quando ha un certo ruolo e ha fatto certe cose non smette mai di cercare di capire gli altri. La curiosità penso che sia proprio il punto di attacco per la crescita, per lo sviluppo personale, professionale. Quindi è una mia caratteristica da quando ero piccolino i miei genitori ricordano che mi mettevo sempre dietro agli anziani, ai tempi anziani che oggi sono i genitori, ad ascoltarli, per imparare e il fatto di fare domande questo aiuta nell'approfondimento e se tu fai approfondimento per uno sport, per l'arte, per il lavoro, l'approfondimento ti porta la passione e la passione ti aiuta a raggiungere i risultati. Quindi la solita domanda è nata prima l'uovo o la gallina? Quindi nascono i risultati attraverso che cosa e che cosa attraverso per i risultati? Il trade off di questa grande domanda io la ripongo proprio nella curiosità. La curiosità è tutto. Quando io incontro dei ragazzi per assumerli, quando incontro persone cerco sempre di osservare quanto sono interessati ad ascoltare, non a sentire, perché tanti sentono, sentono la musica, sentono un rumore di fondo, ma pochi ascoltano, che c'è una grossa differenza fra sentire e ascoltare. Ascoltare significa interiorizzare, ascoltare significa riflettere, significa sognare. Ecco questo è il vero tema. Sei curioso, sogni. Beh questo non è male, come anche auguri a una persona, cavolo, quella di sognare il più possibile. Poi succede che i sogni in qualche modo diventano anche realtà, forse proprio grazie a questa curiosità. Prima ti facevo vedere un po' alcuni dettagli del basement. A proposito di dettagli, tu parlavi proprio dell'importanza dei dettagli. Io sono convinto che i capolavori sono fatti di dettagli. Sono i particolari che fanno la differenza. Quindi fare le cose normali, mediocre, che piacciono tanto le cose mediocre. Se sono nella media, bravissimo. Se sei nella media, uno sta nel comfort zone, stando nella media, perché pensa di gratificare, di gratificarsi. Invece non sa che essere nella media significa essere mediocre. Quindi io detesto la mediocrità, amo l'eccellenza, amo le prestazioni superiori, che siano nello sport, che siano nella musica, nell'arte, che siano nel lavoro, che siano in famiglia, con i propri figli. Quindi perché? Perché se tu tendi a prestazioni superiori, quindi tendi l'eccellenza, vivi un'esperienza. E l'esperienza non è altro che imparare cose nuove. L'esperienza è condividere, condividere passioni, condividere sogni, condividere sfide. Questo per i giovani, lo dico perché ho dei figli giovani, spesso è quasi una preoccupazione, no? Quello di confrontarsi, di mettersi in discussione, e che invece non sanno i giovani, le persone in generale, quanto sia invece il potenziale inespresso in noi. E quindi bisogna avere il coraggio, bisogna osare, perché se parti da questa curiosità, ti assumi un po' di rischio, metti, getti il cuore oltre l'ostacolo, provi e riscontrerai che si possono realizzare cose inimmaginabili. Io adoro l'impensabile, l'unthinkable. Io sono un grande, come dire, cioè mi piace molto il paradosso, cioè perseguo tutti i giorni nella mia vita a realizzare il paradosso, vivere e convivere col paradosso. Il paradosso non piace, perché è scomodo. Il paradosso è la magia, cioè significa realizzare un prodotto di qualità, ma molto utile allo stesso tempo, anche conveniente. Significa pensare a lungo termine, avere la visione, un sogno, ma tutti i giorni execution, execution, tutti i giorni dettagli. Quindi essere pronti a essere locali, quindi avere la tua comunità, i tuoi amici di sempre, gestirli, ma soprattutto curarli, da quando eri bambino a scuola, ma allo stesso tempo pensare al mondo, esplorare il mondo. Quindi questa, come dire, apparente contraddizione è come mettere un quadro antico di fianco a un quadro moderno. Se riesce a costare bene, paradossalmente, queste due dimensioni, che le puoi trasferire nella vita, nello sport, nel lavoro, eccetera, significa creare una magia. Significa creare qualcosa di eccezionale e quindi significa condividere un'esperienza. Questo vale per persone come te, come noi, che siamo imprenditori, sogniamo, guardiamo a lungo termine, pensiamo in grande, eccetera, ma curiamo con ossessione i nostri collaboratori, i nostri strumenti di lavoro, il nostro ambiente, il nostro giardino, la nostra casa, la nostra vita, i nostri figli. Quindi bisogna allenarsi. Tutto questo passa attraverso poi l'allenamento. Tra l'altro hai usato una parola chiave che io utilizzo spesso. Ultimamente ho notato che invece ogni tanto viene un po', non dico criticata, però io uso spesso la parola ossessione per quello che è stata la mia vita, per quello che sono stati gli obiettivi che volevo raggiungere, però molte volte invece viene un po' accusata. Ma io non conosco una singola persona che si è seduta a questo tavolo, che ha raggiunto i risultati, che ha raggiunto senza avere quel tipo di mentalità. È un qualcosa con cui anche tu ti sei dovuto confrontare. Sì, e non sempre piace, non sempre... Io ho avuto la fortuna nella mia vita, partendo da un piccolo garage di casa, una famiglia molto umile, per non dire di più. E quindi io ringrazio Dio tutti i giorni, mi sento estremamente fortunato e in questo percorso, fatto di un duro lavoro, di sacrifici, poi se vuoi ne parliamo, ho avuto la possibilità di conoscere grandi campioni. Abbiamo fatto otto olimpiadi, adesso faremo la nona olimpiade come Parigi 20-24, poi Milano-Cortina, quindi dieci olimpiadi entro i 26. Ho conosciuto i più grandi campioni, da Nadal, Ronaldo, Federer, in tutti gli sport, così come anche persone nel mondo dello spettacolo. Quindi dai tempi di Sylvester Stallone, quando veniva a Gambettola a Cesena a comprare i suoi prodotti, a farsi il suo technology in casa, era famoso ai tempi, lo è tuttora, ma quando faceva Rocky, faceva Rambo, pensare di venire un paese di 5.000 abitanti, da Los Angeles, col suo aereo privato, atterrava a Rimini, devo dire, non è una cosa che capita tutti i giorni. Tra l'altro, faccio un piccolo aneddoto, la prima volta che venne, poi mi chiese di andare a mangiare qualcosa perché era nel metà del pomeriggio, io non sapevo, perché eravamo ancora in questo piccolo spazio di 100 metri quadrati, e allora lo porto in una trattoria a Gambettola di fianco alla Techno Gym. Tu e Stallone che andate a pranzo in una trattoria. La signora, che mai mi conosceva come una sorella, lo guarda e dice, ma a me questo sembra di conoscere. Ecco, per dire, quindi mi sono capitati cose abbastanza particolari. Ebbene, tutto per dire cosa, che tutte queste persone, dal mondo dello spettacolo, allo sport, al mondo della moda, eccetera, tutte sono ossessionate. Io ho vissuto per tantissimi anni, per motivi di lavoro, con Schumacher da giovane, quando aveva vent'anni, perché eravamo il suo preparatore atletico, e gli abbiamo creato questa palestra viaggiante, che lo seguiva. Abbiamo messo technology per tanti anni sulla sua tuta, io ero giovane, parliamo ai medi, tanti anni fa, e lui era le sue prime gare, poi diventò un grandissimo campione, poi rimanemmo con lui anche in Ferrari. lui era ossessionato. Non faccio nomi a altri, ma gli sportivi grandi campioni sono tutti curiosi e ossessionati. Ma ossessionati non in senso negativo, ma in senso positivo, che significa entusiasmo, passione, significa voler migliorare costantemente, persone che si vogliono sfidare se stessi e si alzano l'asticella per conto loro, cioè non c'è qualcuno che gli alza l'asticella, come può essere un manager per un collaboratore, o un imprenditore per i managers, o piuttosto che... No, l'autorealizzazione, in questo caso, per queste persone, passa nel darsi loro stessi obiettivi sfidanti e irraggiungibili. Abbiamo un comune amico, Tammeri... Stavo per dirlo, che a proposito di asticella... L'asticella se la alza costantemente e di più, i suoi record, i suoi risultati, non sono la massima espressione, perché lui sa che in quella asticella c'è ancora dello spazio. Ma, come dire, se la alza costantemente e la sua progressione di un campione è il miglioramento continuo, perché in quella metafora che abbiamo fatto all'inizio, dove se sei curioso approfondisci, se approfondisci raggiungi la passione, perché ti appassioni, che sia nella pesca, piuttosto che nel fitness, e se raggiungi i risultati diventi ossessionato, perché ovviamente hai un godimento, un piacere, una soddisfazione tale, in termini di adrenalina, in termini proprio di autostima, che questa poi ti dà qualcosa ancora di più, che è diventare un campione. Può essere un campione a scuola, può essere un campione con gli amici, fare il DJ, può essere un campione nello sport. Campioni non devi pensare alle celebrity. I campioni sono quelle persone che nella vita hanno dato qualcosa in termini di volontariato. I campioni sono, i veri campioni, sono quelli che aiutano il prossimo, sono quelli che vanno in Africa e mettono in discussione la loro vita per aiutare persone che hanno bisogno. I campioni sono quelli che aiutano persone diversamente abili. I campioni sono quelle mamme che vanno al lavoro, gestiscono la famiglia e sono, come dire, di esempio per tutti, così come i genitori, così come noi che lavoriamo. Quindi attenzione anche all'utilizzo della parola campioni, perché ognuno di noi ha un atleta dentro che non è solo nel fitness, nel wellness, nella performance sportiva, ma è nella creatività e nella passione che noi chiamiamo investio. a Cesena c'è questa parola che è diventata all'interno di Technology, ma un indice, quasi un KPI di business, che è l'investio index, che sostanzialmente noi diciamo, ma questo non ha l'investio. No, questo ha l'investio, questo non ce l'ha. Tu hai l'investio, io ho l'investio e mi auguro che tantissime persone abbiano l'investio. Chi sono quelli che hanno l'investio? Sono quelle persone che vogliono lasciare un segno, sono quelle persone che vogliono lasciare una legacy, sono quelle persone che vogliono in qualche modo condividere un sogno e realizzarlo. Un sogno più grande di quello che apparentemente sembra percorribile. Ecco, queste persone, che io ritengo fortunate, possono essere tantissime in un paese, in un'azienda, ma è solo una questione di allenamento. C'è un approccio che lo devi allenare e pian piano ti alleni la creatività, ti alleni, quindi talento si può diventare. Beh, questa dell'investio, grazie, me la tengo stretta, è molto bella. È diventata anche, cioè va anche sui documenti la parola investio? No, è solo nel libro. È solo nel libro. Tra l'altro il libro, ragazzi, che vi consiglio, questo quando l'hai scritto? Io ho scritto quattro libri, questo è l'ultimo, ed è stato scritto una decina di anni fa, dal garage di casa alla wellness economy, e poi se vuoi ne parliamo. No, ma questo è... Ci tengo molto. No, no, ma la cosa che mi ha incuriosito sarà che ci troviamo in un basement, ma la tua storia che parte da un garage, che ricorda le grandi storie della Silicon Valley, di tutto quel mondo lì, e che ti ha portato, prima chiacchieravamo con un tuo collaboratore, io non sapevo ovviamente che la tua è una realtà internazionale, perché girando il mondo io vedo technology ovunque, negli Stati Uniti, in tantissimi altri paesi, ma che addirittura, adesso se ho capito bene le cifre, il 95% è fuori, e il 5% è in Italia, ti fa già capire la dimensione di quello che stai facendo. e pensare che questa cosa qui è nata nel garage di casa tua è una roba impressionante, ti giuro, è una di quelle cose che proprio ti fa salire poi l'imbestio, perché ti fa dire, cacchio, ma vedi che cosa si può fare? E l'altra cosa che cercavo di capire mentre tu stavi parlando adesso è ma tu sei sempre stato così? Cioè, avevi questa attitudine già all'epoca? Non lo so questo, devono essere altri a dirlo, in particolare i miei genitori, penso di sì. Quanti anni avevi in quel momento? Io ho iniziato a lavorare a 12 anni, perché al mattino andavo a scuola, al pomeriggio lavoravo, e poi ho fatto il cameriere d'estate, il bagnino a Cesenatico, Milano Marittima, e quindi ho proprio la Romagna, inside, dalla piedina romagnola, scuocco erone rucola, fino ad arrivare alle bellissime, io ce l'ho tatuata qui, poi ti racconterò privatamente. Alle meravigliose ragazze, quando facevo il bagnino, devo dire che il divertificio, come veniva definito, proprio la Romagna, e solo lì poteva nascere la Wellness Valley, che poi se vuoi ne parliamo. Quindi no, da piccolo, ma sì, comunque te l'ho detto poc'anzi, che quando ero giovane, cioè bambino, ascoltavo sempre, e quindi questo fatto di ascoltare, è una fortuna, è un'attitudine, un dono di Dio, che se tu ascolti, se tu impari, e quindi io desidero imparare tutti i giorni, so che devo imparare molto di più, di quello che oggi posso ritenermi come professionista, come persona, cerco di andare in giro per il mondo, adesso vado in Saudi, per questo, io sono al World Economic Forum, partecipo da ormai 15 anni a Davos, ho portato il Wellness Workplace a Davos, abbiamo fatto un manifesto per le Nazioni Unite, che è stato poi recepito da tutti i paesi, e abbiamo, ecco la fondazione, la Wellness Foundation, creata 20 anni fa, lanciato questo progetto sociale, no profit, molto importante, per far diventare la Romagna, la Wellness Valley, la Romagna, Wellness Valley, il distretto del benessere, Technology in Village, è l'Hub, è un Wellness Campus, è un campus incredibile, invito le persone a visitarlo, l'anno scorso abbiamo avuto più di 27 mila persone da 40 paesi, che si può venire tranquillamente a visitarla, si può venire tranquillamente a visitarla, si può venire tranquillamente a visitarla, si prende appuntamento, e quindi abbiamo creato, come dire, una cultura locale, un mindset, una cultura sulla qualità della vita, sulla prevenzione, sullo sport, mettendo a fattor comune, sul Wellness, tutti gli stakeholders del territorio, quindi università, aziende, centri sportivi, ospedali, hotels, ovviamente le istituzioni, perché, lanciamo molti anni fa questa idea, perché mi chiesi, ma come posso ridare qualcosa al mio territorio? Erano già più o meno 20 anni che giravo il mondo, che avevamo raggiunto grossi risultati, diventando comunque già 20 anni fa, un'azienda molto importante, e dà questa idea di dire, ma se la technology è nata in un garage, piccolo, di famiglia, e se la prima macchina fatta alla sera, al sabato e alla domenica, perché io lavoravo, avevo 21 anni, lavoravo come progettista e perito industriale, designer, militare non lo feci, quindi iniziai subito a 19 anni, in un'azienda di packaging locale, l'azienda principale del territorio, Romagna e Cesena, come disegnatore, e però avevo il sogno di fare l'imprenditore, cioè c'era comunque questa voglia, come sei tu, mi sono riconosciuto in te, quando prima ti ascoltavo, e tutta questa, che è un'ambizione positiva, attenzione che l'ambizione positiva, la presunzione negativa, parentesi, che è come il colesterolo buono, e il colesterolo cattivo, se è ambizione, il colesterolo buono, se è presunzione, vanità e soprattutto anche arroganza, quello è il colesterolo cattivo, quindi l'idea è stata, ma se la prima macchina fatta, l'Axquot, che non esisteva 40 anni fa, è il seme che ha permesso la costruzione di questa pianta, il tronco, l'organizzazione, i rami, il network internazionale, i frutti, i risultati, e quindi questa meravigliosa pianta, ma mi sono chiesto, ma quanto può essere solida questa pianta, se non ha delle radici profonde, e ben radicate, sul territorio, e lì mi sono fatto una domanda, back to basic, mi sono fatto una domanda, ma sei sicuri che, il primo vento che tira forte, o il primo, la prima tempesta, non cada sto albero, e loro ho detto, dobbiamo ripartire, dalla Romagna, da Cesena, e in che modo? Ebbene, nacque questa idea, di fare il Technology Village, con Antonio Citerio, il più importante architetto designer, che abbiamo in Italia, e in Europa, e creare un'icona, come fosse una cattedrale, come se fosse un luogo, di innovazione, di ecosistema, di ricerca, che sia il design, sia l'education, sia tutti i servizi all'interno, stiamo parlando di una grande struttura, 60-70 mila metri quadrati, un gigantesco investimento, e di lì l'idea, di ripartire, da Cesena, non più da Gambetto, alla Cesena, 5 km a Gambetto, sull'autostrada, e lanciamo questa idea, abbiamo creato, un'università asianale interna, abbiamo creato, un wellness restaurant, un wellness center pazzesco, ci lavorano mille persone dentro, ed è tutto di legno organico, sostenibile, con un grandissimo parco, c'è il campo da basket, il campo da tennis, abbiamo la pista ciclabile, c'è tutti gli sport, che puoi fare dentro, fuori, abbiamo un laghetto, io amo i giardini, mi piace il verde, disegno giardini, ho disegnato quello di casa, ho disegnato quello del technology, ho disegnato di qualche amico, quindi, tutto questo per dire cosa? che la Romagna, la Wellness Valley, è un esempio, che dopo 20 anni, di progetti di educazione nelle scuole, per gli anziani, l'esercizio fisico come potentissimo farmaco, per aiutare le persone, che hanno dei trattamenti chemoterapici, per esempio, per il cancro, per combattere il diabete, per combattere l'ipertensione, malattie mentali, cioè, tutto quello che sono i rischi derivati, dai cattivi stili di vita, obesità, e malattie metaboliche, cardiovascolari, possono essere curate, prevenute, con l'esercizio fisico, e tutto quello che è attorno all'alimentazione, il turismo, l'arte, la cultura, eccetera, l'abbiamo valorizzata, in Romagna, quindi ti faccio un esempio, sulla costa adriatica, abbiamo tanti hotels, molti dei quali, adesso, vendono pacchetti turismo, vacanze, con lo sport, quindi, vacanze attive, questo è stato un esercizio, bellissimo, per allungare la stagione, convegni, fiera, quattro università, facoltà della, università di Bologna, che hanno creato Cesena, quattro facoltà sul wellness, nutrizione, scienze motorie, bioingegneria, alimentazione, ecco, questo è un esempio, ma poi lo vedi proprio andando in giro, io una zona che, che conosco bene, e proprio quest'estate sono rimasto, io sono di solito a Riccione, nel mese di agosto, perché faccio poi la radio da lì, ma io ci credo molto in quello che dici, perché proprio lo vedo sulla mia pelle, io l'allenamento l'ho messa come parte, come se fosse del mio lavoro, prima di venire qui, stamattina sono andato a allenarmi, e c'ho un boost che mi porto dietro per tutta la giornata, succedeva anche quest'estate, vado in giro, vado a correre nel parco, uno dei parchi di Riccione, trovo una piazzola Techno Gym, era migliore dell'85% delle palestre, che a volte mi capita di andare in giro pagando, tutto pubblico, uno poteva andare lì, allenarsi, c'erano tutti gli esercizi, l'app che se volevi ti connettevi, e ti dava tutti gli esercizi da fare, già alle 6 di mattina era piena, insomma mi ha fatto impressione, proprio quella zona, tutte le volte che vado, al di là che adesso anche una delle più importanti fiere, viene fatta proprio a Rimini, cioè è diventata la zona italiana dove... dove questa cultura è permeata su tutti i settori, quindi dall'educazione alle scuole, agli ospedali, e allora per dire cosa, che quello è un esempio di un laboratorio, è una legacy per le nuove generazioni, perché è un progetto a 20 anni, non è un progetto a due mesi, come tipicamente si pensa politicamente parlando, e oggi perché no replicare a Milano, abbiamo lanciato questo progetto, è uscito questo meraviglioso articolo, sul Corriere della Sera, di far diventare Milano la prima wellness city al mondo, ho parlato con tutti gli stakeholders del territorio, dall'amministrazione pubblica ovviamente, due università importanti, le più importanti, due ospedali più importanti, la federazione degli alberghi, tutto il mondo Milano-Cortina, tutto il mondo legato al fitness centers, wellness lifestyle, insomma hanno aderito tutti, tutti nel far parte di questo progetto, che è la fondazione, che ha sede anche a Milano in Borgo Nuovo, oltre che a Cesena, di definire un manifesto, di definire delle guida, insieme a tutti gli stakeholders, con dei tavoli di lavoro, tavolo di economia, ricerca scientifica, il tavolo sullo sviluppo per la salute, quindi prevenzione, e quindi ognuno poi, come abbiamo fatto in Romagna, si prenderà il suo pezzo di wellness, e lo andrà a declinare, perché l'abbiamo fatto? Grazie all'esperienza fatta in giro per il mondo, grazie all'esperienza fatta in Romagna, mi è venuta un anno fa, come dire, la curiosità, parlando di curiosità, di fare un assessment, una specie di check-up, diciamo, a Milano, in termini di inquinamento, obesità, diabete, obesità infantile, età media, demografia della città, i servizi, i parchi, le piste ciclabili, tutto quello che è il wellness, dall'alimentazione, al fashion, al furniture, al fitness, al food, tutte le F, che sono attorno al fitness, al wellness, qual era, qual è il benchmark? Cioè, qual è lo stato di salute di Milano per le nuove generazioni? Ed è emerso un quadro preoccupante, perché la gente beve troppo, fuma troppo, troppo sedentarietà, e quindi tutto ciò può rappresentare un rischio enorme per la salute dei cittadini, ma anche per gli ospiti, che sono i turisti, ovviamente, che sono gli investitori, sono i talenti, che vogliono tornare da tutto il mondo, a vivere a Milano, perché è meravigliosa. E allora l'idea di lasciare una legacy, anche visto che noi abitiamo anche Milano, i miei figli sono a Milano, e mi è nato un nipotino a Milano, che ieri l'altro domenica è stato battezzato a Milano, ed è il nostro primo milanese, diciamo, della famiglia, e ho detto, cosa voglio lasciare al mio nipotino? Voglio lasciargli un a Milano, diciamo, più in salute, più in salute. Questo è un bel obiettivo, poi sei stato uno dei primi, credo, a passare proprio dal fitness al wellness. Abbiamo inventato la parola wellness, il concept wellness, 30 anni fa, è stata anche registrata, e poi adesso e oggi è di... Cioè davvero la vita proprio... Il concept wellness, l'abbiamo coniato nel 1993, a dir la verità 92, ma registrato nel 93, abbiamo scritto tre libri sul wellness, abbiamo fatto tantissimi convegni, in giro per il mondo, il wellness non l'abbiamo inventato noi, in quanto esisteva 2000 anni fa, durante l'epoca romana, come mensana in corpore sano, che è proprio l'Italian quality of life, cioè proprio la vita della dieta mediterranea, lo sport, le olimpiadi, piuttosto che già dall'antica Grecia. Quindi noi non abbiamo fatto altro che valorizzare tutto ciò che c'è, cioè a Milano non veniamo a fare nulla in più di ciò che già esiste. Quello che invece potremmo fare, credo è mettere a sistema a fattor comune queste eccellenze che già esistono, dico dagli ospedali, all'università, a tutti i vari progetti di Milano, proprio in un'ottica sociale no profit. Quindi se ci sono persone che ci ascoltano, che hanno dentro proprio questa vocazione anche sociale, questo interesse, per aiutare questa meravigliosa città, ma poi la estendiamo in tutta Italia. Quindi l'Italia può diventare il più grande produttore di benessere al mondo, sia per attrarre talenti, capitali, sia per esportare alimentazione, food, lifestyle, cultura, fashion, furniture, tutto legato alla qualità della vita. Quindi questa è la missione della nostra fondazione. Una grande ambizione, dei grandi sogni, partiti da quel garage, tornando a quel garage lì e in quegli anni, come ti è venuta questa cosa di metterti lì? Tu facevi degli altri lavori, com'era in quel momento il mondo del training o del fitness? Sì, 40 anni fa, avevo 21 anni, cioè non esisteva il settore, non c'era internet, non c'era nulla, non c'erano neanche i computer, stavano arrivando i famosi M24, i primi dell'Olivetti. L'idea era semplicemente quella di diventare imprenditore, provai diverse cose, avevo una piccola officina in casa, già all'età di 15-15 anni, lavoravo in motorini per gli amici, me lo sono fatto da solo il motorino, perché non avevo i soldi, mi sono fatto l'abbigliamento, mi sono prodotto l'abbigliamento per 3-4 anni, perché non c'erano soldi in casa, quindi andavo dalla magliaia, gli portavo la lana, i pezzi di pelle, dei ritagli, devo dire che non ero male come fashion designer, tanto è che dovevo andare a lavorare per Armani, e avevo già in programma un colloquio, dovevo andare a fare lo stilista, mi ero mosso, ma quei tempi erano molto difficili, perché Armani stava nascendo, anche lui stava diventando famoso, e quindi per una serie di coincidenze, non riuscì a fare questo incontro, e allora andando in una piccola palestra, che era più che altro una cantina, diciamo, c'erano dei bilanceri, dei manubri e basta, non c'era nient'altro, vedevo persone, atleti, che ai tempi c'era neanche il bodybuilding, c'era proprio il culturismo, già la parola bodybuilding ancora non c'era, vedevo che per fare un esercizio dovevano essere in due ad aiutare la persona a fare lo squat, perché poteva essere pericoloso, allora gli dissi all'istruttore lì, che era il proprietario, dico, ma scusa, se io gli disegnai, perché essendo un progettista, avevo una piccola officina in casa, gli feci uno schizzo, un disegno, ma se ti faccio questa slitta che si muove, che puoi regolare, ti metto una cam che ti fa lo sforzo variabile, ti metto un selettore che puoi, insomma, per me era il mio mestiere sotto il profilo tecnico, e lui mi dice, ma magari prova, già mi guardavo, come dire, ma gli feci così tante domande a questo power trainer, che alla fine mi disse lui cosa dovevo fare, hai capito la curiosità, quindi non è che ho inventato proprio niente, io ho fatto semplicemente quello che l'istruttore mi ha detto, hai capito l'esigenza, bravo, ho ascoltato, ho ascoltato, cioè della serie, osservavo le persone che facevano ginnastica, e io ho detto, ma come potrei essere utile a questi? Quindi mi sono sempre posto in questo modo, come posso essere utile al mio collaboratore? Come posso essere utile al mio paese? Vengo a Milano a abitare, come posso essere utile a Milano? Sono stato in Romagna, come posso essere utile a Romagna? Ma ancora di più, con tutti i nostri collaboratori, 2500 interni, altri 2500 fuori, cosa possiamo fare per essere utile al mondo? Let's move for a better world, la nostra purpose, quindi il wellness, healthy people, healthy planet, questa cultura della prevenzione della salute e del benessere per la felicità, che sia per la famiglia, della persona, degli amici, poi la felicità tu la puoi raggiungere perché vai in bicicletta, alla mezza maratona delle dolomite più allenato di altri, o puoi raggiungere semplicemente perché hai un tono muscolare che ti permette di essere molto più efficiente e efficace nella vita, oppure sei un anziano che ti rende autosufficiente, mi capisci? Cioè ognuno trovi il suo wellness, non è che devono essere tutti in forma strepitore, no, se ho un problema cardiovascolare mi sta bene quello e basta. E tutto questo ho detto, ti faccio una macchina. Lui mi guardò, come dirlo, vabbè. gliela feci, ovviamente utilizzai tutti i piccoli fornitori locali, carpentieri, tornitori, eccetera, tutta smontata, tutta smontabile perché avevo solo il bagaglio di questa vecchissima golf del 75, quindi povera, e lo portai dentro a questa palestra dopo due mesi. C'era la fila, la fila, la fila della gente, volevano utilizzare solo il mio Axquot, che non c'era neanche il marchio sopra, perché ancora... Artigianalissimo. Beh, dopo un mese, un mese e mezzo, questo istruttore mi dice, scusa, ma perché non me ne fai un'altra? Io tornai nel mio piccolo garage alla sera, il sabato e la domenica ovviamente, perché non è che potevo farlo, e così un altro, e così un altro ancora. Beh, dopo tre, quattro mesi ho detto, ma aspetta un attimo, vediamo di organizzarci, allora prendo due, tre amici, quello che abitava di fianco a casa mia, quello che abitava davanti a casa mia, la mia cugina, prendo tre, quattro ragazzini di vent'anni, 21, 22, e li metto insieme in questo garage. A maggio dell'anno dopo, vado da mia madre, dico, io mi licenzio. Mia madre, dramma, perché lei, pensare che il povero Nero Alessandri, ragazzino di 21 anni, 22, perché sono dell'otto aprile, quindi ne avevo 22, che a maggio si licenzia, del lavoro sicuro, il miglior lavoro che un disegnatore meccanico, un progettista poteva avere, Cesena, l'azienda numero uno, e bene, io devo fare la mia strada, ma il problema era spiegare cosa volevo fare, perché io lo sapevo cosa volevo fare, ma non riuscivo a spiegarlo agli altri, perché mi prendevano per matto, cioè ti metti a fare delle macchine per far fatica alla gente, ti metti a fare degli attrezzi, cioè non esisteva il settore, e quindi io sapevo invece di rimettere in moto il mondo, quindi nati per muoverci, perché? Perché fondamentalmente pensai, e penso tuttora, l'uomo è nato per fare 20, 25 chilometri al giorno, a quei tempi metti che ne facesse 10, 20 anni fa ne faceva 5, oggi ne fa uno al giorno, uno, telefonini, telecomandi, ascensori, automobili, computers, mobile, social media, cioè ci metti dentro tutto, la gente non si muove più, quindi TechnoGym è l'attivazione, è quella possibilità di compensare questi 10, 20 chilometri che mancano, che mancano al giorno, e quindi l'idea di rimettere in moto il mondo fino dall'inizio, però sai, andavo a spiegarlo agli altri, mi guardavano come fosse un pazzo, perché, però poi, dopo due anni, tre anni, quattro anni, più persone, più collaboratori, e oggi siamo presenti in 120 paesi, 55 milioni di persone usano TechnoGym in tutti i giorni, in 100 mila strutture, palestre, impianti sportivi, aziende, moltissimi, hotels, abbiamo 20 mila hotels, i più belli al mondo, c'è uscita una statistica recentemente su Forbes, sui 50, non mi ricordo quanti erano, 40 hotel più belli al mondo, noi eravamo tutti 40, e tante olimpiadi, abbiamo un sistema digitale spaventoso, ma parlando di Comfort Zone, 1996, non c'era internet, ancora stavo iniziando, era solo nelle università, credevo in internet, credevo nella rete, credevo nel software, perché avevamo già fatto i primi attrezzi con l'elettronica, già nell'88, cinque anni dopo, facevamo il primo cardio, che aveva il battito cardiaco, telemetrico, il display elettronico, il video per fare le gare, cioè già nell'88, 89 inventammo, proprio l'Hard Rate, controlla, con la macchina che si autoregolava, in funzione del battito cardiaco, quindi tu settavi sulla macchina, il tuo battito cardiaco ideale, ed era la macchina che variava il carico, pendenza e velocità del treadmill, ti parlo di 35 anni fa, e poi abbiamo messo la televisione, i primi al mondo, aver messo la televisione sulla macchina, i primi al mondo, aver fatto appunto il software, perché andavamo a Seattle, ad aprire questa azienda, che si chiamava, e tuttora si chiama, My Wellness, andavamo a Seattle, quella è stata la prima cosa negli Stati Uniti? Sì, quella è stata veramente una discontinuità, perché a quei tempi andare a Seattle, nessuno, pochissimi conoscevano Seattle, perché tutti conoscevano New York, Los Angeles, però, siccome avevo un amico romagnolo, che era capo della Microsoft Europa, e lui mi spiegava, magari dice, il software è a Seattle, cioè, tu devi andare a Seattle, e io andai a Seattle, e lì aprimmo la prima software house, a Seattle 1996, e prendemmo tanta gente da Microsoft, eccetera, poi portammo anche un piccolo ristorante di Cesena, che era un amico, a Seattle, la Spiga, si chiamava La Spiga, che c'è tuttora, il ristorante più figo, a Seattle, la Spiga di Cesena, facciamo la piadina, e a quei tempi venivano tutti quelli del software, c'era Bezos che veniva a mangiare lì la piadina, ma nessuno sapeva chi era Bezos, quindi c'era un mondo di software a quei tempi, che lì è partito a bomba dei livelli incredibili, in Italia non c'era, e noi facciamo la piattaforma per gestire il training, il primo software per gestire il training al mondo, che era locale, non aveva la rete, non c'era wifi, poi dopo nel 2000, dopo 5 anni, crollo totale di internet, dovevamo addirittura quotare questa MyWellness in Seattle, per una cifra gigantesca, c'era questa New Economy, si chiamava, la Old Economy, la New Economy, tanti ai giovani non sanno cosa è successo in quel momento, e in un anno e mezzo circa, dal boom totale, dove valevano le società, più della Fiat in italiana, non faccio nomi, a un certo punto, crollo totale, perché noi solo sapevamo cosa fare, di questo internet, non c'erano ricavi, non si facevano i soldi, cioè praticamente c'era Nokia, ai tempi, ma no, che non aveva il protocollo per la comunicazione, il famoso WAP, GPRS, se non entro nel tecnico, e qui c'è stato un buio, un buio tra il 2001 al 2006, ma noi portavamo in Italia la Software House, aprimmo a Cesena, attraverso una sponsorship della Cassa di Spamio, l'Università per scienze di informazioni sul software, assumemmo tutti i primi, e nel 2007, continuamo e trasformammo il software, poi nel 2010, su cloud based, quindi tutte le nostre installazioni, le mettemmo ai tempi in collegamento, e oggi abbiamo un ecosistema, fatto di prodotti, che sono connessi, app diretto al consumatore, My Wellness CRM platform, CRM tipo Salesforce, una CRM per il wellness, e oggi abbiamo la più grande ecosistema, e noi siamo una piccola Apple, quindi dal piccolo garage, a una piccola Apple. Pazzesco, ma lì quando è crollato tutto, tu credevi di aver sbagliato, di aver fallito? No, perché, allora, la delusione, tanta, perché abbiamo veramente perso, una quantità di soldi enormi, in quel momento, che poteva mettere in crisi chiunque, perché non c'erano ricavi, tu fai una startup, che alla fine, non serve a nessuno, e per cinque anni, soldi, perché avevamo più di 50 persone, dentro alla filiale, alla software house americana, perché a quei tempi, fare il codice, era molto più difficile, serviva a molte più persone, non c'erano i tools, come ci sono oggi, lì dovevi far tutto, dopodiché, io ci credevo, all'ecosistema, si chiamava technology in system, non avevamo il collegamento, attraverso la rete, con la login, ma avevamo una chiavetta gialla, era una chiavettina, una memory key, diciamo, dove dentro c'era il tuo programmino, facevi il plug and play sul display, facevi il download, e tu avevi il programma, terminato l'esercizio, la macchina restituiva la chiavetta smart, col programmino, e poi tu andavi su un'altra macchina, perché ti diceva, quella era l'altra, e noi facevamo una rete, attraverso sta chiavetta, quindi io credevo, ebbiamo andato a 5 milioni di persone, quella chiavettina gialla, ma anche Milano, Londra, Parigi, dappertutto, poi è arrivata la rete, abbiamo buttato, fra virgolette, la chiavetta, anche se molti la usano lo stesso, solo come login, e attraverso, ai tempi, il telefonino, oggi lo smartwatch, qualsiasi sistema, puoi avere anche una banda al polso, ti fai il tuo login, e ti ritrovi in qualsiasi parte del mondo, tu vai in un'hotella, ti ritrovi il tuo faccione, che ti esce dal display, hai i tuoi film, la tua musica, dove ti è rilasciato su Netflix, hai già tutto, hai il tuo programma, i tuoi risultati, hai il tuo trainer online, che ti segue, e oggi noi abbiamo, la personalizzazione del programma, di training per lo sportivo, per chi ha il diabete, e si deve riabilitare, piuttosto che, per chi si vuole mantenere in forma. In quel periodo, quando poi hai visto che quella macchina, che avevi fatto in garage, stava iniziando ad essere richiesta, eccetera, quali sono stati gli step successivi, oltre ad aver fatto, creare un gruppo di lavoro, cioè quando hai capito che, stava funzionando tutto? Ma, non c'è, non c'è mai stato un momento, che ho capito, il concetto è, hai un sogno, io tuttora un sogno che, cioè, è tutto da fare ancora, cioè il mio sogno di oggi, ma lo dico, proprio con la massima umiltà, io penso non abbiamo realizzato ancora niente, ma non che non abbiamo realizzato niente, con grande, ovviamente, rispetto per tutti quelli che lavorano, e ci mettono la passione, quindi abbiamo, enorme azienda, però rispetto a quello che possiamo fare per l'umanità, quello che possiamo fare per aiutare il mondo, di un mondo che sta andando in crash, cioè, dal punto di vista della salute, giusto per dare due numeri, perché magari le persone non lo sanno, prima di tutte le malattie cardiovascolari, quindi infarti, ictus, rappresentano solo questa, questo rischio, l'insieme di tutti i tumori, e basta fare una regolare, un regolare esercizio fisico, tre volte, quattro volte alla settimana, tre volte, mangiare in modo naturale, quindi frutta, verdura, vegetali, tutto quello che può essere pesce, mangiare mediterraneo, niente diete, avere un approccio positivo alla vita, ti riduce del 40% il rischio, di malattie cardiovascolari, cioè, se parliamo di diabete tipo 2, che purtroppo il 4% della popolazione, 3-4, ha il diabete tipo 2, e il 70% di questo 4% non sa di averlo, quindi se non fa ginnastica ora, perché l'esercizio fisico è un potentissimo farmaco, serve la posologia però, e noi diamo la posologia, quindi il farmaco, l'esercizio fisico, però technology, exercise technology, noi precision training, perché noi siamo precision training, ti diamo il protocollo per te, che tu abbia un problema, dico per dire metabolico, piuttosto che vuoi essere un tamberi di turno, un grande sportivo, tutti questi si allenano, ma duramente, però serve l'alimentazione, serve un approccio, e technology ti dà questa soluzione, quindi non c'è un punto d'arrivo, perché se io ti racconto cosa vogliamo fare, praticamente tutto d'arrivo, cioè, noi abbiamo un mantra all'interno dell'azienda, che dice che se funziona, e ha successo una cosa, un progetto, vuol dire che è obsoleto, non è comodo, torniamo al paradosso originale, questa è stimolante, noi siamo obsoleti, dobbiamo ricominciare da capo, rifare tutto, ma noi siamo degli start-up per perenni, io sono uno start-up per perenn, technology ma una start-up forever, quindi se tu porti questo in bestio, perché torniamo sempre in bestio, ma io lo vedo nel tuo studio, sono convinto che se torno fra tre anni, se tu vuoi fare innovazione, devi fare costantemente i cambiamenti, i cambiamenti, che sono i miglioramenti, questo si chiama Kaizen, il sistema Kaizen inventato da Toyota, che significa anche mettersi in discussione, perché è più bello guardarsi allo specchio, dire ma cacchio quanto sono figo, no, io mi guardo allo specchio, mi dico, oh Nero, dati da fare, perché qui ha solo che da peggiorare, se parti con questo anticorpo, con questa immunità, da un punto di vista psicologico, come attitude, hai due possibilità, o sei un frustrato, dici oddio, no, 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 perché, oppure sei super motivato, devi decidere tu, se tu la sfida la vedi come un piacere, un divertimento, così come scalare il K2, o così come fare un salto in alto, in lungo, allora ti diverti, se tu la vedi come una sofferenza la sfida, e la vedi come una, come dire, come una frustrazione, la subisci, la subisci, è meglio che cambi la loro, non è quello, non è quello, è per questo che i giovani, e dobbiamo parlare a loro, ricordiamocelo, hanno un potenziale enorme, ma sono stato, l'altro io non vado mai, sono stato invitato alla Bocconi, con mille ragazzi, a tenere, perché il rettore, mi ha gentilmente invitato, io non vado in trasmissione, guarda, questa è un'eccezione, che io sia qua, ti ringrazio, lo so, secondo me, con l'investio che hai, credo tu abbia insistito, però, ma non per ragazzi, lo capisco, perché l'imprenditore, deve stare in fabbrica, deve stare in azienda, lavorare, non deve fare gli speech, in televisione, questo è il mio punto di vista, poi, se c'è un aspetto educazionale, perché mi ha detto, sì, c'è un motigine, nel senso, io vorrei che fosse quello, lasciamo una legacy, ok, io vorrei fosse esattamente quello, ma non per vanità, ovviamente, ecco, io dico, se tu ti diverti, perché bisogna divertirsi, se ti diverti, in questa sfida, come giocare a calcio, come andare in mountain bike, come, allora, ci prendi gusto, e quindi, i giovani, possono fare delle cose straordinarie, perché sono più bravi, lo dico sinceramente, i miei figli, sono molto più bravi di me, rispetto a quando io avevo la loro età, perché sono più informati, perché hanno girato il mondo, perché parla un 3-4 lingue, io non ho neanche l'inglese, non ho neanche sapevo cosa era una fattura, a casa mia non avevo neanche il telefono, quando io ho fatto la technology, io non avevo il telefono in casa, io andavo in una cabina telefonica, perché nella mia casa non c'era il telefono, per avere un'informazione, mandai una lettera a un mio amico, che stava a Los Angeles, a fare il, si dice, a praticare l'inglese, che era andato a fare il volontario, alle Olimpiade dell'84, di Los Angeles, gli mandai una lettera, per sapere che cos'era il bodybuilding, in America, mi ha risposto dopo 4 mesi, scusa eh, Google, hai tutto, Wikipedia, tutto in un secondo, con GPT, cioè puoi avere qualsiasi cosa, artificial intelligence, mi ricordo un'altra storia, che probabilmente conoscerai, che è un altro grandissimo imprenditore mondiale, che è Phil Knight, il fondatore della Nike, e lui raccontava un qualcosa di simile, quando vendeva le scarpe, dal baule, per prenderle, mandava dei fax, gli arrivavano 4 mesi dopo, e poi insomma... Potrei raccontare delle cose, che mi vergogno solo a dirle, perché uno non ci crederebbe neppure, però, questo era. Beh, però questo, questo, non è che ci fossero molte... ma è questo che non ti devi mai lamentare, cioè, quello che tu hai oggi, io dico ai ragazzi, spero che mi ascoltino, perché questa è una cosa, alla quale ci tengo molto, se tu vivi ogni giorno, come il giorno più importante della tua vita, e vivi ogni occasione, come questa, che è l'occasione che ti può cambiare la vita, qualcosa ti succede, dai tranquillo che qualcosa ti succede di buono. Io sono fermamente convinto, che fortunati si diventa, perché la fortuna non è altro che l'incontro, fra il talento, e l'occasione. Meglio avere un talento così così, normale, come avevo io, come ho tuttora, ma creare una quantità enorme di occasioni, e a quel punto qualcosa succede. Se tu sei un super figo, super talentuoso, bravissimo a scuola, e poi stai davanti alla televisione, ai videogiochi, non ti muovi, non ti dai davare, non ti sbatti, e non ti succede una mazza. Mamma, questa è, mi ci ritrovo, cioè nel senso, è una cosa che penso tantissimo, e sono felice, detto da te, e chiaramente ha tutto un altro peso, nel tuo percorso, creando tante occasioni, sbattendoti, facendo un sacco di cose, impari, e appunto poi incontri. Chi è stato il primo, non so se atleta o realtà, a darti fiducia, cioè a dare fiducia a Techno Gym, nel percorso? Ma la storia, ce ne sono tantissime da raccontare, me ne viene in mente una, perché sono a Milano, così può essere anche simpatica, e da noi a Cesena c'è un giornale, diciamo, il resto è il Carlino, certo, e c'era un articolo, parlo dell'85, fino a 85, dove Fininvest dichiara l'acquisizione del Milan, parla a Berlusconi, e dice, sto facendo il più grande centro di preparazione atletica al mondo, sto facendo un campus, l'unico al mondo, a Milanello, c'era un garage ancora, dico, questa è l'occasione della vita, però non c'erano, non so più chi telefonare, non c'era internet, Berlusconi ai tempi era l'inizio, quindi sì, era famoso, ma, però lui il Milan, gli ha dato tanto, come sappiamo, e io dissi, ma, se questo vuol fare tutto quello che c'è scritto, andiamo a vedere, curiosità, torna sempre alla curiosità, questo si chiama, vai e guarda coi tuoi occhi, perché se stai a casa in poltrona, non succede niente, allora io il giorno dopo, con la mia misera golf, con l'impianto a gas, vado, parto sempre alle 4 al mattino, 3 ore, arrivo a Milano, c'era nessuno, solo i taxisti, e chiedo a un taxista, dove è Milanello, questo mi dice Milanello, Milanello non è a Milano, Milanello è dopo Varese, devi, rimetto l'auto, direzione a Varese, arrivo a Milanello, tutto quello che lessi sul giornale, non c'era niente, cioè, Berlusconi aveva dato un'immagine, pazzesca di un sogno, ma ancora non c'era niente, non era quello, c'erano dei picchetti, con, un cantiere, ma null'altro, e allora io mi infilo dentro questo cantiere, chi è il capo, chi è l'architetto, cioè un ragazzino, 22 anni, 23, no, 24, e incontro l'architetto che faceva il progetto, dice, ah sì, abbiamo l'input dal presidente Berlusconi, di voler fare il più grande centro di preparazione atletica, ma noi non sappiamo neanche che cos'è, e io sono qui apposta, mi inventai di essere un esperto, ma non sapevo niente, e dice, ah per fortuna, avevamo proprio bisogno di uno che ci desse le indicazioni, e mi sono venduto, e capito, per quello che non ero ovviamente, che ne sapevo di calcio, sì, giocavo anch'io calcio, ma non c'era la preparazione atletica, dice, anzi, guardi, so che forse prendono uno che si chiama Pincolini, preparatore atletico, poi c'è, forse questo allenatore Sacchi, dico, ma Sacchi è romagnolo, allora, metto insieme, fortunati si diventa, metto insieme, Pincolini, chi è, mi informo, l'architetto che non sapeva cosa fare, l'allenatore Sacchi Romagnolo, torno a casa, gasato, mi diede la piantina, il disegno, mi raccomando, non lo faccia vedere a nessuno, perché tutte cose che ancora, io mi mesi lì a studiare, chi è maestro Pincolini, insomma, morale, Sacchi dice, mi fido di te, sei romagnolo, io abito vicino in casa tua, Pincolini dice, guarda, facciamo sta roba, perché il Presidente vuole fare una cosa pazzesca, io gli facciamo vedere le foto, non avevo i cataloghi, insomma, morale, facciamo la più grande, cento di preparazione atletica, al mondo, nel calcio, lì arrivò, Gullit, Van Basten, tutta una serie di giocatori, dall'86, fino a poi, quasi al 2000, vinsero tutto, e il signor Berlusconi, il dottor Berlusconi, Cavaliere, poi diceva a tutti, Neri Alessandri, la technology, il nostro primo fornitore ufficiale, e oggi, lo stesso Adriano Gagliani, grande amico, tutti, poi, tutti, ero con Fabio Cappello, ieri, che ridavamo di ste robe, a pranzo, perché poi, le abbiamo vissute tutti, perché, sul senso delle cose, quei tempi, che andate a raccontare oggi, è un film, è un film, ebbene, quella è stata, come dire, un'operazione, a costo ridotto, che però, ci ha dato tanto, ma così, quando abbiamo messo Schumacher, le nostre technology, mi andai dal famoso, ai tempi, nessuno lo conosceva, Flavio Briatore, a Londra, che era stato ingaggiato, dalla famiglia Benetton, per fare, questo team, dell'Aros, che diventava Team Benetton, e c'era questo ragazzino, Michael Schumacher, che stava iniziando, era una grandissima promessa, parlo con Briatore, per poter mettere technology, perché non c'avamo soldi, però volevamo già mettere technology, però, su un nuovo, emergente, giovane, pilota, e costavano delle cifre incredibili, perché qui costavano milioni, miliardi, scusa, di lire ai tempi, e io dico, guarda, noi non c'abbiamo niente, abbiamo pochi milioni di lire, e ho detto, guarda, mettimeli sotto, anche se nessuno li vede, non c'è problema, a meno, tra non avere niente, e avere sotto qualcosa, e feci il contratto, peccato, che Schumacher alzava le mani, perché vinceva, e si vedeva solo technology, poi vinceva sempre, e si vedeva solo technology, l'anno dopo, mi dice, ma qui, hai fatto un colpaccio, adesso paghi, perché tutti, in tutto il mondo, Schumacher era veramente, e facciamo sempre così, si vedeva solo technology, allora a un certo punto, vabbè, rinnoviamo il contratto, eccetera, eccetera, ero su con questo mio collaboratore, dovevamo rinnovare il contratto, ok, pagato 3-4 volte, anche di più, di quello che avevo pagato, prima di firmare il contratto, gli dico, guarda, mi devi fare un regalo, mettimi un piccolo marchietto sul casco, ma che se ne fai di un marchietto di un centimetro per 3, guarda, ma gli faccio delle foto, mi serve, qui il casco non c'aveva marchi, aveva solo qui dietro Ford, perché avevano il motore della Ford, e, vabbè, firmiamo, e, però, io non l'avevo chiesto per nulla, l'avevo chiesto perché c'era un motivo, siccome io arrivo sempre presto, perché nella vita essere pronti è tutto, hai capito? Sempre. Se sei sempre ritardatario, giri sempre in riserva in macchina, non vai tanto lontano, tanto la benzina è sempre la stessa, è una forma mentis, quindi i consumi sono sempre uguali, tu arrivi prima, chissà ti può succedere qualcosa di positivo, e perché sono arrivato prima? Perché intanto mi sono fatto un'idea, sono andato in officina, ho visto, ho parlato, ho capito, ho chiesto come è con te, sono arrivato qui nel tuo garage, ti ho fatto domande, e ho imparato a ottenere faccio delle altre. Ok. Allora a un certo punto vedo uno sull'auto, che era sui cavalletti senza le ruote, e vedo uno nella, come si chiama, nell'abitacolo, che muoveva il volante, un meccanico, e c'era un monitor a terra, e vedevo che lui muoveva la testa, e il monitor si vedeva la testa, e io gli chiedo al meccanico, ma che cos'è? Ah, dice, se sarà la prima camera car al mondo, la prima volta nella storia, che si vedrà la persona, cioè l'audience potrà vedere il driver, il pilota. Boh, io dico adesso aspetta un attimo, chissà mai si becchi technology, quando muove la testa, parte la gara, prima gara, si vedeva solo technology, 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 grande così in televisione, mondo visione, ecco, di queste ne abbiamo fatto un botto, mamma mia, se no la technology non esisteva, come facevi di diventare leader nel mondo? Noi vendavamo la birra ai tedeschi, ricordatelo sempre, perché vendere il body building in americani, il fitness americani, che loro l'hanno inventato, quello mi ha colpito molto infatti, cioè com'è stato andare lì e rapportarti lì, cioè nel senso, da incosciente, guarda, la vita qua è tutta da incosciente, perché? Perché ancora una volta il paradosso, cioè, se non rischi, no pain no gain, se non rischi, non rosichi, cioè qualcosa devi fare, quindi tutta sta roba qui, ha tutto sempre lo stesso Phil Roos, che è l'investio, se no ci dimentichiamo sempre l'incipit, poi sai, è la profezia che si avvera, se tu hai 2000 collaboratori, e i collaboratori tutti pensano alla stessa cosa, che è let's move for a better world, healthy people, healthy planet, e tutti noi abbiamo una missione sociale per aiutare il mondo a essere più bello, e passare dalla green economy, evolvere verso la wellness economy, come noi diciamo da 20 anni, e vedrai che arriverà, beh, da Cesena, piccolo paesino, mille abitanti, Calisesi, Cesena, Gambetto, dove abitava mia moglie, che ai tempi era mia fidanzata, aveva 17 anni, stavamo nel garage, d'inverno, dovevamo montare gli attrezzi con la stufa, hai capito, perché c'era un freddo, non si attaccava neanche alla colla, e la mia fidanzata, una ragazza stupenda, che faceva anche la modellina per me, non so se hai mai visto le foto, e sai, oggi mia moglie, siamo insieme da 42 anni, sposati da 33, abbiamo dei meravigliosi figli, questo è il wellness, cioè il wellness è l'arte, il wellness è il design, il wellness è la bellezza, se tu vieni al Technology Village, casa mia, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, deve essere bello, deve essere di gara, che il bello non è costoso, stai attento, perché la gente, cioè anzi, ci sono delle cose costosissime, che sono orribili, quindi il bello è anche una cosa semplicissima, perché le cose più belle, sono le più semplici, questo mi ha colpito molto, il discorso della moglie, te l'avrei chiesto, perché mi colpisce, a me piace molto, l'idea di fare un percorso insieme, di partire da zero insieme, e nel casino delle cose, avere, diciamo, la tua costante, no? E mi sembra, da quello che racconti, molto attaccato alla famiglia, usi una parola che a me piace molto, che è quella della Legacy, che io la collego molto allo sport americano, a tante cose, e quanto è stato importante, però spesso si pensa, a chi fa un percorso come il tuo, che in realtà, lungo la strada si perdono dei pezzi, o comunque, come hai fatto tu a gestire questa cosa, e quanto è stato importante avere la famiglia, so che tua figlia, ad esempio, lavora con te, insomma, ci sono altri membri della famiglia, che lavorano con te, quanto è stato importante tenere? La famiglia è la solidità, la famiglia è, come dire, il supporto più importante che puoi avere, nel mio caso ho il mio fratello, perché il mio fratello aveva 17 anni, e andava col motorino, a portare i disegni in giro, quando erano nel garage, ed è sempre stato al mio fianco, e quindi siamo cresciuti insieme, abbiamo fondato l'azienda insieme, poi c'era prima la mia fidanzata, il mio fratello, la mia cugina, il mio vicino di casa, quello che abitava di fronte, il fratello di un mio migliore amico, che mi suggerisce, dice guarda, parla con il mio fratello, lavoro in banca, fa il cassiere, questo viene, e capito, mi fa conoscere Giovanni Ricci, questo mio amico, il suo fratello, gli parlo, ah io vorrei stare, ma sì, io voglio cambiare lavoro, mi piacerebbe, quindi guarda, domani, insomma, devo andare a Milano, se vuoi venire con me, ti faccio vedere che lavoro faccio, perché sai, cosa spiegavi? Non è che potevi dire, che so Google, hai capito? Non c'era una reference, non c'era Apple, e quindi, ok, vengo, ok, bene, si chiama, perché è uscito dall'azienda, l'altro giorno, dopo 40 anni, e è andato in pensione, noi tutti i nostri primi collaboratori, sono tutti con noi, allora a un certo punto, gli dico, dai, ci vediamo alle 4, domani, se vuoi venire con me a Milano, all'autostrada, lui mi fa, ma di pomeriggio? No, 4 del mattino, 4 del mattino, andavo a lavorare alle 9, sì, sì, ah va bene, dice, ci vediamo all'autostrada alle 4, notte, inverno, in presente, arriviamo sempre a Milano alle 7, sempre due ore, sempre quello, e a un certo punto, iniziamo ad andare da qualche cliente, dovevamo fare delle visite, cioè gli facevo perché doveva fare il commerciale, e lui dice, guarda, non c'avevo commerciale, lo facevo io, perché io facevo tutto, no, all'inizio, mi cambiavo 3-4 volte, mi mettevo la cravatta, la giacca, poi mi mettevo la tutta, poi mi rimettevo la giacca, dipendeva con chi dovevo incontrare, avevo in bagno le divise, allora viene con me, andiamo, poi la sera addirittura, capita uno, e dice, ah venite a cena con noi, che devo aprire una palestra, c'era il boom, ma nessuno sapeva, come si poteva fare, andiamo a cena, mi guarda Stefani, ma andiamo a cena, si si andiamo a cena, tranquillo, vedrai, si fa mezzanotte, e dice, ma non andiamo a casa, si si andiamo, andiamo, partiamo a mezzanotte un quarto, arriviamo a casa alle 3 di notte, lo lascio all'autostrada, aveva fatto 23 ore, lo lascio all'autostrada, e fa, ma, e allora, cosa ne pensi, ti è piaciuto oggi? Ma, dice, guarda, il settore mi piace, è bella, stia idea dello sport, ma tutti i giorni è così, sarà anche peggio, e non sei spaventato, perché non sei spaventato, ma è certo, era un test, adesso oggi ti arriva, e dicono, ma scusi, facciamo lo smart working, ma posso venire, non venire, lavorare, cioè, non succederà mai niente, allora, qui dobbiamo riportare le cose semplici, le persone, dobbiamo farle divertire, quindi, il lavoro, adesso è un divertimento, deve essere una passione, questo è il punto, se lo fai come passione, come tuo hobby, e ti senti tu all'azienda, ottieni risultati incredibili, se è un sacrificio, è una, come dire, una frustrazione, cambia lavoro, però qui sta anche, al capo, in qualche modo, riuscirà a coinvolgere, bravo, la leadership, esatto, gli altri componenti, e quando si diventa grande, diventa sempre più, più difficile, lì, come ti comporti? è un bel tema, questo, la leadership, lead by example, questo è uno dei nostri, botti, quindi, devi dare sempre l'esempio, uno dei dati con i figli, lo devi dare con, ovviamente, i collaboratori, io mi sono messo in discussione, tuttora lo faccio, insieme a mio fratello, Pierluigi, abbiamo un bel team, abbiamo tanti dirigenti, abbiamo tantissimi, il vero tema è questo, che le persone scelgono l'azienda, il brand, e poi lasciano i capi, people choose companies, and leave managers, non ho mai visto il contrario, non ho mai visto il contrario, interessante, quindi, questo è un vero problema, cioè, non è che uno sceglie, vieni a lavorare in technology, perché, cioè, in tutto il mondo, viaggio in tutto il mondo, c'è, quindi, poi dopo, cosa succede? Che magari se ne va, non è contento, perché il suo responsabile, che noi non chiamiamo capo, ma il suo leader, non è, persona che ha i valori giusti, magari non lo valorizza, noi abbiamo tantissimi giovani, io addirittura faccio, una volta al mese, una colazione, la mattina, alle sette e mezza, con tutti i giovani, e li vogliono conoscere tutti, uno a uno, l'ultimo, ho fatto tante giovani, recentemente, poi li abbiamo portati tutti nel garage, perché, abbiamo ogni tanto un pullman, che parte ogni tre mesi, che si va a cinque chilometri nel garage, il garage qual è? di casa, ok, quel garage dove, tutto identico a prima, ma tu hai lasciato, questo non l'avevo capito, e allora siccome ogni tanto sentivo dire, ma è vero che c'è un garage, ma che figata questa, e loro, no, ma non è che c'è, andiamo, quando tu vedi tutto il garage, vedi che tutta la gente, guarda, ma allora è vero, ma allora esiste, non è una storia, hotel, ah ma che, ho tenuto la casa dei miei genitori, tale e tale come era, apposta, e ci porto anche i miei figli ogni tanto, perché se tu vedi un Technology Village, il più bel campus al mondo, guarda, li conosco tutti, a parte quello di Apple, che è bello, ma è talmente grande, che non lo apparecchi neppure, ma il nostro campus, vai su internet, guardi su YouTube, il Technology Village, cioè è un campus, incredibile, e uno che vedi lì dentro, pensa che sia normale, abbiamo un ristorante, con tre menu, menu organico, vegetariano, mediterraneo, e tu gli dici, guarda però, vieni a vedere da dove è partita, non è mica la mecegenica, la chiama la mensa, la mensa, ma che mangia meglio che in un ristorante, abbiamo un'università interna, l'azienda, facciamo formazione tantissimo, ma ci sono persone che scegli tu proprio, come nel team, o c'è qualcosa che tu dici, oltre all'imbestio, quali sono le caratteristiche, secondo te, che deve avere, deve avere la passione per il web, wellness, per lo sport, deve piacergli il bello, deve piacergli la qualità, deve avere gusto, deve essere una persona che sa soffrire, che ha ovviamente voglia di sfide, è difficilissimo scegliere persone, ma è la cosa più difficile in assoluto, e poi deve sposare un progetto, di lungo termine, che significa voler far parte di una squadra, voler condividere con una squadra, perché in Italia in particolare, ci sono troppi individualisti, troppe persone a silos, noi lavoriamo per processo, abbiamo un modello organizzativo, tipico americano, lavoriamo per processi, da noi capi, non esistono fondamentalmente, se non come leader, e sono le competenze che tirano, non sono i galloni, i title, a noi i title, cioè sono le competenze che tirano, non sono i job title, quindi anche questo è un approccio, molto democratico, molto meritocratico, per noi l'equità e la meritocrazia è tutto, ti dicevo, io vedo individualmente tutti i giovani, a gruppi ovviamente, proprio perché li voglio conoscere, in passato era facile, adesso sono tanti, ma abbiamo messo una legge, all'interno dell'azienda, come si dice, una policy, che adesso i giovani possono riportare, rispondere, essere coordinati, solo dai leader, perché prima li mettevano al terzo, quarto, quinto livello, uno arriva, un giovane, non se lo fila a nessuno, cioè che... Non si sente abbandonato. Invece, no, tu devi avere un rapporto diretto, con la parte più alta dell'azienda, così impari. Ti fa sentire... E quindi io dico ai giovani, ragazzi, voi siete fortunatissimi di essere qua, soprattutto perché è il settore più figo al mondo, il wellness, secondo perché è il settore più figo al mondo, c'è un'azienda che è considerata leader, quindi se siete nel settore più figo, con l'azienda più figa, siete nel posto più figo, tanto per cominciare, e bisogna dirglielo perché non lo sanno, perché pensano che il posto più figo al mondo sia sempre dall'altra parte, è come dire che gli italiani non piace l'Italia, c'è una roba come... Che però... Che però è il posto più bello al mondo, e quindi spesso sottovalutiamo la bellezza e la fortuna di essere italiani e orgogliosi di essere italiani. Quindi per concludere, questa è un'attività che come la fai coi figli di rendere consapevolezza, perché la consapevolezza è tutto, lo devi fare anche coi collaboratori. E questi giovani che noi cerchiamo di avere, giovani, in base alla tua domanda, che ci credono. Certo. Se tu vuoi aver successo ci devi credere, ci devi credere fino in fondo. Se vieni per stare di passaggio o non hai fiducia nella tua azienda, nel tuo brand, nella maglia, e fino all'ultimo minuto quella maglia lì deve essere la maglia più importante della tua vita, allora sei protagonista. E se tu vuoi aver successo, oltre a tutto quello che ci siamo detti in questa ora, e credo che abbiamo esaurito il tempo, devi a farti aiutare degli altri. Quindi se tu non giochi di squadra e non sei generoso con i tuoi colleghi, non sei curioso con i tuoi colleghi, e non sei collaborativo con i tuoi colleghi, questi non ti aiutano. E dove vai da solo? Io da solo non posso fare niente. Questo è fondamentale. Guarda, due cose giuro poi ti lascio libero, però è veramente una grande possibilità, una cosa che mi ha incuriosito prima. Due cose, due cose. La prima è un po' forte, però mi serve per far capire un concetto secondo me importante. Adesso sei partito dal garage, eccetera. Ora io credo, non ho guardato statistiche, Forbes, eccetera, credo tu sia miliardario, ma da quello che succede, da quello che racconti, non si è mai parlato di quello. Cioè nei tuoi obiettivi, in quello che tu racconti, che avresti voluto fare, eccetera, eccetera, non si è mai parlato di quello. Si è sempre parlato di un fine più grande, di un'ambizione più grande, di un qualcosa. E io credo che questa cosa sia l'unico modo per raggiungere davvero i propri sogni, perché i sacrifici che uno deve fare per poter raggiungere queste cose sono talmente tanti che avere un sogno effimero come può essere il denaro cioè molleresti. È una conseguenza. È una conseguenza. Se tu persegui il successo non lo raggiungerai mai. Se tu persegui invece il risultato, può darsi, non è sicuro, che arrivi il successo. Mi segui? È assolutamente sì. E la differenza fra il fine e il mezzo. Quindi il fine non deve essere il successo ma il fine deve essere il risultato. Il mezzo, il tuo metodo che tutto questo nella tua disciplina rigore, perché serve disciplina e rigore, diciamolo a tutti i ragazzi, serve disciplina e rigore. Però se tu ti alleni, perché ti ho detto quattro volte oggi che bisogna allenarsi. Sì, sì, sì. Cioè allenarsi non è solo con Techno Gym fantastico, anzi, se non ti alleni poi non hai l'energia, ma allenarsi vuol dire con un bravo fotografo per fare delle belle foto, ne devi fare decine di migliaia di foto. Il nostro amico Tamberi per fare un salto di due metri e trenta lo deve fare milioni di volte il salto. Quindi tutti si devono allenare così come Schumacher, Verstappen, dico uno che tutti sanno oggi chi è, ma questo conosce tutte le piste a memoria, lui ha i sistemi simulatori, lui potrebbe fare le piste con gli occhi chiusi. Ma per riuscire a fare questo ma hai un'idea di quante volte si è fatto con i simulatori le piste? E questo vale per un cantante, questo vale per un artista, vale per un manager, vale per tutti, devi allenarti. Ma tu cos'hai sacrificato lungo la strada, te ne sei reso conto? niente. Perché non te ne sei neanche... Niente. Perché ho coltivato i miei amici che avevo da giovane e ci vediamo i venerdì ogni tanto. Bello. Anzi, mi dicono le mogli ma c'è Nerio? Sì, allora andate, andate. Che bella questa cosa. Perché dico tanto con Nerio parte di lavoro e fa oppure sport ne faccio di ogni arte mi piace da morire passione ne ho un botto la famiglia perché il wellness è tutto integrato famiglia amici food fashion fitness cioè noi abbiamo la fortuna che quando parliamo di wellness è happiness è felicità perché il risultato finale è la felicità. E con tua moglie c'è mai stato un momento in cui vi siete guardati e vi siete detti ma amore hai visto cioè cazzo cioè eravamo lì a prendere le misure della cosa guarda adesso ma non per flexare cioè non per dire guarda che fighi che siamo ma una cosa che tu dici ma guarda siamo qua poi credo tu abbia incontrato le personalità più importanti del mondo cioè ma guarda ti dico sì no non lo so ma noi siamo molto umili cioè noi viviamo una situazione normale però ti dico questa mi è capitato l'altro ieri perché siamo abitiamo da un po' anche qui a Milano quindi abbiamo finito casa sia di miei figli che la nostra nello stesso luogo e mia moglie mi ha regalato per i miei 60 anni 60 foto in bianco e nero delle 60 persone più importanti che ho conosciuto quindi è andata nell'archivio del nostro ufficio marketing e mi ha regalato 60 ritratti di 60 persone e io non le ho mai viste messe tutti insieme perché ovviamente allora me le ha portate perché dovevo appenderle eccetera come regalo e ammazzate Bush Obama Clinton Nadal e tutti i più grandi sportivi al mondo non faccio altri nomi quindi andiamo da Warren Buffett fino ad arrivare a Bill Gates e tutti nelle foto fatte in 40 anni però se tu le foto non le vedi non è che poi ci pensi mi segui perché poi sono tutti clienti cioè alla fine non è che sono tutti clienti non è che vado lì a fare foto come si chiama non vuoi fare il selfie con Obama certo non mi interessa che niente però sono tutti i nostri clienti sono tutte persone per esempio Clinton è venuto a fare l'opening di Technology quando era importantissimo ai tempi con Giorgio Napolitano che era presidente della Repubblica avevamo 2500 persone all'opening di Technology c'erano i CEO più importanti al mondo non voglio fare nomi ma c'erano diversi ministri diverse personalità molto importanti ma Bill Clinton era ai tempi e lui mi ha fatto una dedica nel mio ufficio ha scritto nel muro grazie Nero per il messaggio che stai lasciando al mondo e ho proprio la foto mentre lui fa la dedica nel mio ufficio sul muro con un pennarello che mi ricordo che io gli regalai quel giorno lì la copia che lui non aveva ancora di Time americano dove lui era sulla copertina di Time e non voleva più andare via dal mio ufficio non voleva più andare via da Cesena ma si è trovato bene è vero ricordiamo che tutto questo è a Cesena cioè tu hai portato a Cesena non ti hanno ancora dato le chiavi della città hai portato a Cesena stallone che va alla trattoria tanti altri ma no l'ho detto io l'ho detto io l'ho detto io quindi vedere queste 60 diciamo immagini ci siamo guardati ho detto madonna quanti eri ben preso quante riunioni l'altro giorno ho fatto il giro del mondo sono partito dalla Saudi Arabia poi sono andato a Singapore Hong Kong Thailandia Bangkok Shanghai Sydney Tokyo e poi sono arrivato a San Diego San Diego poi ho fatto Toronto e poi sono tornato a casa 10 paesi in 22 giorni 65 ore di aereo 130 appuntamenti 3.000 persone incontrate sono tornato ero gasattissimo perché avevo imparato l'ira di Dio cioè con tutto sto covid hai capito non mi ricordava più neanche dove era la geografia hai capito allora mi ero talmente rotto le scatole di sto cacchio di video call hai capito che sono partito faccio il giro del mondo ma se tu fai il giro del mondo in 23 giorni 24 non mi ricordo bene e vedi tutto in sequenza tutte le parti del mondo e incontri tantissimi clienti personalità eccetera eccetera dello sport in particolare o piuttosto che del mondo medico scientifico ho visto l'università diverse eccetera torni a casa e dice beh allora esiste ancora no perché c'erano quasi un'idea che era tutto chiuso ecco questo è quel modo per anche prendere coraggio e prendere perché se ti sei abituato a stare davanti al video fare video call tutto il giorno fare smart working cioè non sai più neanche dove è il mondo come gira invece il fatto di prendere su e andare è capito tu riscopri back to basic tu riscopri quei valori dell'importanza della relazione dell'importanza della fiducia dell'importanza di condividere dell'importanza di sorridere e abbracciarsi cioè ecco per me è stato un recupero molto importante però quando ho fatto l'agenda che ci ho messo sei mesi per farla e ci credo cioè non è che quando siamo partiti eravamo convintissimi perché ma ce la faremo non ce la faremo addirittura una cosa stranissima perché quando sei a Tokyo che vai a San Diego il calendario torni indietro di un giorno i fugi orari non ne parliamo però ma dico tutta la vita ma tutta la voglio rifare di tutti gli sportivi che hai incontrato che hai citato qual è quello che ti ha impressionato di più in questi anni? sì in questi anni Schumacher Schumacher infatti ho sentito che l'hai nominato con una fenomeno più di Cristiano Ronaldo sparo come impressione come ma sono tutti uguali guarda Ronaldo Nadal beh adesso con Sinner io l'ho visto proprio da ragazzino ho avuto anche a casa mia e ho giocato a tennis a casa mia a Cesena e quattro anni fa non ricordo bene prima del covid dopo boh non mi ricordo e e lì vedi che sono tutti uguali semplice curioso umile cioè attenzione ai social attenzione vedere le foto vedere i social media perché non è sempre così io penso che l'autenticità mio padre mi diceva sempre una cosa e ci lasciamo con sta frase che essere onesti conviene guarda sii tu stesso ma sii autente è una raccontare balle non fare finta perché è una fatica pazzesca è fingere ma che fatica è fingere e raccontare balle ma che fatica è ricordarsene alla fine se tu sei tu stesso e poi mi fai una domanda quante cose hai fatto sbagliate la maggior parte però ne ho fatte così tante ne abbiamo perché parlo sempre al plurale fate così tante che un po' le abbiamo azzeccate hai capito quindi lo Schumacher di turno ma sai quanti errori ha fatto micidiale però ne ha fatte così tante e così tutti i campioni tutti i campioni hanno fatto quantità di errori piangono si deprimono io quante volte ho pianto tantissime volte disperato non sapevo neanche come fare devi soffrire cioè non c'è vittoria senza sofferenza non c'è vittoria senza sacrificio ma non c'è grazie infinite questa è una chiacchierata di un valore inestitabile almeno per me è benzina che mi servirà sia umanamente per tanti mesi per tanti anni sono certo anche per tutti coloro che ci hanno ascoltato perché è veramente una grande ragazzi divertitevi metteteci la vostra passione e realizzerete cose inimmaginabili tirate fuori l'atleta che è in voi ciao let's move for a better world Nero Alessandri uno dei più grandi atleti mi sembra di dire di sempre grazie davvero è passato dal basement l'atleta che è in voi grazie a tutti grazie a tutti